we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi ho un sacco di novità da dirvi per quello che sta succedendo nella grandissima causa legale di apple versus fortnite vi aggiorno c'è una seconda causa legale ma non le cose non sono finite perché arrivano anche altre cause dedicate a delle cose che non c'entrano nulla con epic games ma vi farò vedere qualcosa e ovviamente parleremo anche di tutti gli aggiornamenti sulla season 4 prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che non può che essere la seconda causa legale che è stata aperta direttamente da epic games di nuovo nei confronti di apple perché la situazione sta letteralmente degenerando andiamo a vedere subito intanto questa immagine che è un po il simbolo ironico di quello che sta succedendo come vedete è una skin di fortnite con la testa di una mela appunto quindi sta a significare appunto l'antagonismo che si è creato tra queste due multi industrie e internazionali la prima è questa ragazzi apple apple ha rimosso fortnite dall'app store lo sappiamo tutto tutti e rimarrà disponibile per chi ce l'ha solo fino al 28 agosto dopodiché ragazzi non sarà più possibile per i giocatori di ios aggiornare fortnite questo vuol dire che non si potrà più giocare a fortnite e la situazione come vi stavo anticipando sta degenerando perché questo problema potrebbe essere anche di impaccio per i giocatori che utilizzano un mac perché sembrerebbe che apple abbia deciso di fermare anche gli aggiornamenti sui sistemi operativi che montano un macintosh cioè sui macintosh che montano appunto il sistema operativo è differente da windows questo problema ragazzi non finisce qua anche perché come andiamo a vedere apple sta cercando in tutti i modi di bloccare la possibilità di aggiornare la real engine sopra le sue sopra il suo app store questo vuol dire ragazzi che la real engine il motore grafico di proprietà se non ricordo male di epic games o comunque che utilizza epic games andrebbe ad intaccare anche oltre a fortnite pubg borderlands daylight battle breakers gears of war e non sono finiti perché la lista si allunga con arc survival evolve final fantasy 7 remake star wars jedi fallen order e sea of tives insomma ragazzi una marea di giochi questo veramente potrebbe incominciare diventare un durissimo colpo per epi games che ovviamente ha come gioco di punta il nostro fortnite ma che ovviamente tutto quello che genera gli intro e quello che gli intrati che gli vengono generati dagli altri suoi capolavori che utilizzano la real engine potrebbero essere bloccati la situazione è un po sfuggita di mano perché oramai è guerra completamente aperta e l'unico modo leggevo siccome c'è un articolo proprio che rimanda alla come si dice alla denuncia numero due che epi games ha fatto ma è lunghissimo sono tipo 50 pagine da leggere ci sono dei punti salienti dove si dice appunto che apple farà di tutto per bloccare lo sviluppo di aria l'engine non ne permetterà più gli aggiornamenti d'altra parte leggevo dei forum dove ci sono delle persone competenti che dicevano l'unico modo in cui epi games possa avere la meglio è che quando andranno al verdetto finale dai giudici apple venga forzata a ridare la possibilità ovviamente di far giocare appunto tutte le persone perché poi c'è tutto un discorso dove dicono sì ok tu non mi vuoi più far aggiornare il gioco però l'utente che comunque quando tutto era normale ha pagato quindi tu ti sei preso delle percentuali sugli acquisti dell'utente e queste percentuali adesso non è giusto che tu le togli a chi ha pagato è un casino incredibile ragazzi quindi staremo a vedere ogni aggiornamento io cerco di tenervi aggiornati e di dirvelo e incrociamo le dita per tutti gli utenti che utilizzano questi sistemi operativi che vada tutto per il meglio e possiate continuare a giocare soprattutto nella season 4 che vi ricordo arriverà il 27 agosto oltre a ricordarvelo io ce lo ricorda proprio epic games in un estratto sempre dalla causa legale numero 2 che hanno appena intentato dove come leggiamo in queste righe si dice the next season è una prossima stagione programmata per il rilascio il 27 agosto 2020 questo è un documento ufficiale quindi la data è ufficialmente il 27 agosto non ci sono delay come avevamo già anticipato e ci sono anche delle notizie perché si è scoperto che sono già in corso i test server sulla patch 14.10 quindi nonostante stia succedendo tutto questo casino intorno a epic games loro vanno avanti a macchina a sviluppare a preparare ad aggiornare il nostro battle royale preferito e dopo aver già terminato ovviamente tutto sulla patch 14.00 sono già arrivati ai test sulla 14.10 il che è un'ottima notizia perché potrebbe voler dire che sono già avanti con il processo di sviluppo e di messa in prova incrociamo le dita e staremo a vedere anche su cosa si baserà ovviamente la season 4 e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché arrivano delle notizie invece sulla nuova location quella che ormai abbiamo capito arriverà con la nuova con gli incrementi nella mappa appunto nella prossima season e qua leggiamo sembrerebbe che il crater poi quindi crater vi ricordo sono i crateri ve li faccio vedere mentre vi leggo quello che vi sto dicendo questi ragazzi sono dei crateri che a questo punto arriveranno con la prossima season e dovrebbero essere se non ricordo male vicino ai monti di Gattogrill ma adesso rileggiamo bene l'articolo perché sembrerebbe appunto che la dimensione di questi crateri sia 15x15 quindi non sono proprio piccolissimi come vedete ci sono delle rune che richiamano praticamente quelle che già avevamo visto nella season 4 diciamo che come dicono qua la grandezza potrebbe essere molto simile alle rune quindi vi ricordate ragazzi quelle che lasciava giù il cubo quando si spostava da una parte all'altra della mappa oramai un bel po' di tempo fa ecco la dimensione è quella vicino a salti spring invece saranno quindi non sia ancora una posizione precisa per questi crateri quindi staremo a vedere se saranno tra l'altro tutti ammassati oppure sparsi per la mappa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché attenzione ragazzi qua voglio la vostra attenzione perché è veramente un argomento importante io vi sconsiglio sempre di tentare in qualsiasi caso di provare ad installare dei software non autorizzati che vi possono dare dei vantaggi in game soprattutto in questo periodo dove Epic Games ha proprio altro a cui pensare rischiate veramente che il ban del vostro account sia permanente e non lo ripossiate rivedere più vi faccio un elenco di dei software che qualcuno ha scaricato il primo si chiama protonvpn win bla bla defendercontrol.exe installerror.exe masterfn bla bla non scaricateli per nessun motivo perché il sistema easy anti cheat di fortnite riconosce che avete scaricato questi file sul vostro computer e anche se non li avete mai aperti manda subito una segnalazione vi viene bannato l'account ragazzi non fate stupidaggini perché una volta permabannati non si torna più indietro quindi mi raccomando una piccola informazione se vi era passata qualcosa di strano in testa e chiudiamo ragazzi il video di oggi con questa bellissima immagine qua ci sarebbe un mondo da aprire su questa immagine che cos'è ragazzi questa immagine si chiama coral castle è uno dei grandi misteri del mondo è in florida ed è stato costruito con dei blocchi enormi di granito se non ricordo male da una singola persona tantissimi anni fa ci sono veramente delle teorie assurde sul come sia stata possibile la creazione di questo ci servirebbero dei video a parte ma ve lo faccio vedere perché lo stato della florida proprietario appunto di questo monumento chiamiamolo così ha fatto causa a fortnite perché hanno utilizzato il nome coral castle nella loro mappa appunto per indicare la nuova location quindi è veramente follia anche questa cosa ma volevo dirvela per farvi capire un pochettino quanto le aziende una volta che vedono che ci sono dei problemi tentano di attaccare epic games da tutti i fronti è veramente una cosa ridicolo ma ci stava da dirvelo insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao